Serie BWIN appassionati alle prime battute cross di Budel all'inmezzo con da Prela che difende Corbi e che gira murato da Emerson arriva a portare via la Brughi c'è il cross per Rossi che di tacco non aggancia di collo invece si i pugni di Mazzoni che poi c'entra il palo con la testa accompagnando il pallone sul montante Paoligno apre le gambe luci per favorire l'inserimento di Schiattare L'Acadesso può calciare alla larga replica il Livorno al palo di Corvia ancora Luca Budel alza per Caracciolo raggiunge Corvia tacco di Corvia per Caracciolo buona azione centrale Mazzoni il cross che arriva morbido colpo di testa e Mazzoni la toglie dall'angolo si allunga e schiaffeggia il pallone in corner che va da Tionisi posizione regolare Tionisi Mirino sulla porta mira offuscata però fischia di Bello si va Chiedini evidentemente intercettato in televisione da qualcuno L'Asic non è buono per Paoligno che se la porta avanti con il tacco Paoligno scheggia la traversa un palo per parte al primo minuto della ripresa ecco Paoligno Caldirola Tionisi con il rimpallo dribbla due volte Caldirola ancora il piede di Dionisi linea di fondo Dionisi l'azione da solo con Paoligno dentro l'Europeo Under 21 Corvia Corvia in area di rigore Corvia fino in fondo il Brescia in vantaggio Corvia ha segnato all'undicesimo ha sfondato sulla linea interna Livorno a zero Brescia a uno in questo momento il Brescia in finale Emerson ci prova stampa il palo palo di Emerson su calcio di punizione solto tocca Paoligno il pareggio del Livorno c'è una deviazione ha pareggiato Paoligno 1-1 al ventesimo della ripresa cross di scaglia si tuffa di testa Ceccherini Felipe Sodinia palla una spanna dal palo di Mazzoni arrivano a 5 minuti di recupero intanto il lancio di Felipe Sodinia per Caracciolo palla in mezzo ha un passo dal sorpasso il Brescia rinvio di Mazzoni finisce qui finisce Livorno 1 Brescia 1 sarà derby toscano Livorno Empoli per giocarsi la Serie A Grazie a tutti